Una persona che ha problemi psichici e che vuole frequentare questo cenno. Scusa caro? Grazie. Qualche problema cara? Nulla caro. Sì? Cosa vuole che ne sappia io? Chiami i carabinieri, autostrade, ACI, ANAS, AISCAT. Buonasera a lei. Chi era caro? Un tizio che voleva sapere se la via era libera. Buonasera a lei.